segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te paolo pare che erdogan quindi il presidente turco stia negoziando il rilascio di alcuni ostaggi sì è un'agenzia adesso prego avevi finito io ho voglio sapere se anche l'ambasciatrice mi ha mandato all'inferno io vorrei che questo cosa di quello io sarò grato in eterno torneri come emblema di un certo pensiero di un certo pensiero precisa da cui chiederei un maggiore impegno per la pace in europa e nel mondo lei mi ha mandato all'inferno preventivamente crederci all'inferno tu credi all'inferno da quando ho letto l'articolo dell'ambasciatrice credo all'inferno e le sarò grato tutta la vita diciamo mi hanno mandato in molti posti a me però all'inferno non mi ci hanno mandato questo perché io credo tantissimo nel ruolo che lei può esercitare quindi dovrebbe essere un ruolo potrebbe essere un opinion maker come scena erano parlato di giorgio bocca se noi abbiamo potuto criticare io ragazzina di 16 anni ho potuto criticare un mal governo democristiano era grazie a giornalisti come giorgio bocca in italia ancora possiamo non sicura che paolo mie li potrebbe insieme all'intelligenza non essere non vi offendete per carità cani da guardia dal famoso libro di allumi ma potrebbe cercare di lavorare per dare un contributo alla pace e alla prosperità europea perché per la prima volta nel mondo siamo di fronte alla possibilità di un conflitto nucleare mi farò sorvegliare da cazzullo nel quale mi